Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima serie di domotica, lo so cosa state dicendo, state dicendo Hey ma noi tipo 10.000 persone abbiamo già visto gli scorsi episodi di domotica, tu hai già una serie di domotica aperta Ebbene sì, però stava diventando un po' un casino, tra un secondo ne parliamo insomma Intanto do il benvenuto a tutti i nuovi, in questa serie di domotica faremo grandissime cose Impareremo a controllare le luci di casa come una tapparella, come qualsiasi altro dispositivo elettronico o elettrodomestico o qualsiasi roba Con interruttori touch, comandi vocali, automazione, si può controllarli da un'interfaccia su un sito web E il tutto veramente a un prezzo ridottissimo perché le componenti che andremo a utilizzare saranno Raspberry P3 Che è sulla trentina di euro e ne useremo solo uno in linea di massima come server principale E poi questi cosi, che si chiamano Sonoff, che sono degli interruttori intelligenti con essi al wifi E costano tipo 4 euro, 3 euro, dipende con che offerta li trovate, comunque non costano veramente niente Sono comodissimi da riprogrammare Una volta tolta la shell di plastica, tipo in questa maniera, diventano così e si possono anche mettere dentro le prese della corrente Insomma, c'è un sacco di roba Molti hanno già visto queste parti, solo che il problema è che noi usiamo questo programma di domotica che si chiama Switchando E il problema è che abbiamo cominciato a usarlo in una fase molto iniziale, in cui era totalmente diverso da come adesso Non funzionava neanche bene, ma poi era un casino da installare Ho fatto video su video per installarlo Poi quando usciva l'aggiornamento spiegavo il nuovo procedimento, però contraddiceva quello precedente Quindi si è creata un po' di confusione Quindi, allora, come seguire questo video? Se avete già visto gli scorsi episodi di domotica Quindi voi avete già il vostro Switchando installato sul Raspberry Saltate direttamente al minuto Tot Dove Tot sta uscendo qua in sovrimpressione da qualche parte Se avete già tutto funzionante saltate lì Vi spiegherò come aggiornare Switchando l'ultima versione E poi sarete in pari, insomma Con questi, tra virgolette, nuovi tutorial Visto che ho semplicemente cambiato copertina Perché la gente non faccia confusione quando dopo cerca le cose su YouTube Se invece siete nuovi da domotica Semplicemente continuate a lasciare in riproduzione questo video E adesso andiamo a vedere passaggio per passaggio Alcune clip sono vecchie, vi avverto già Perché non ho voglia di riregistrare tutto Vabbè, smetto di prendere tempo a parlare Mettiamoci al lavoro Ok, ho preso una nuova SD 16GB Ci sto mettendo su Raspbian Questo Raspbian è del 16 marzo Quindi l'ultimissima versione Quindi con questo Raspbian nuovo, appena installato, appena pulito Apro l'unica partizione leggibile da Windows Quella boot E vado a creare due file Quindi tasto destro, nuovo Lo chiamo documento di testo per ora State attenti di avere l'estensione dei file visualizzata Da Explorer di Sorse di Windows Dovete vedere il formato Perché noi non vogliamo creare un file .txt Ma vogliamo creare un file che sia un file Quindi cancello il nome del file Ma cancello anche l'estensione .txt E lo vado a chiamare semplicemente SSH Un file che si chiama SSH e basta Questo qua cosa fa? Semplicemente se il Raspberry lo trova Quando si accende Se lo trova abilita l'SSH Quindi non avremo bisogno di accedere con uno schermo Con una tastiera, con un mouse A Raspberry Perché lui avrà già l'SSH abilitato dal primo avvio Altro file da creare Anche qui cancello anche l'estensione Si chiama WPA Underscore Supplicant .conf Questo qui createlo solo se vi serve Che il Raspberry si connetta al Wi-Fi Questo file non deve essere vuoto Quindi vado ad aprirlo con un blocco note E ci vado a incollare questo testo Che voi trovate in descrizione ovviamente Questo testo semplicemente dice al Raspberry La rete a cui connettersi Quindi qua ci va l'SSD della rete Il nome del Wi-Fi essenzialmente Ad esempio la mia Wi-Fi si chiama Overvolt Qui ci va la password del vostro Wi-Fi Che ovviamente non vi mostrerò E qui qualcosa di descrittivo Ad esempio Wi-Fi di casa Scrivo la password Vado a salvare il file Quindi abbiamo aggiunto solo questi due file SSH che mi abilita l'SSH di default E WPA Supplicant che gli dice già A quale rete connettersi Ok messa l'SD nel Raspberry Gli vado a dare corrente Ovviamente Passo semplicemente a dargli corrente Con un carica smartphone E andare subito a connettermi via SSH Quindi apro subito il mio Putty L'indirizzo IP sarà 192.168.1. Punto qualcosa E qualcosa dovete scoprirlo voi Perché d'ora in poi Gli metteremo un indirizzo IP fisso Ma attualmente non lo ha ancora Questo nuovo Raspberry Di solito lo si fa comodamente Dal pannello di controllo del router Dovrebbe sapervi dire Tutti i dispositivi che sono connessi E il loro indirizzo IP locale Ok da me era il 192.168.6 Punto 6 insomma Mi logo come P E la password dovrebbe essere Raspberry Quella di default insomma E in effetti qua me lo dice Mi dice guarda che non li hai cambiati Quindi loggati come utente P Qualcosa che abbiamo E usa il comando password Per mettere una nuova password Come primissima cosa Guardate Prima di andare a installare switchando Mettiamo un indirizzo IP statico Al Raspberry Cosa vuol dire? Vuol dire che non dovremo più andare a cercare Nelle impostazioni del router L'indirizzo IP dove posso trovarlo Ma lui avrà sempre lo stesso indirizzo IP Nella rete locale LAN Insomma E questo perché in realtà Non solo per un fatto di essere più comodi a trovarlo Ma va proprio per il fatto che lui Essendo il Raspberry server Il capo Tutti devono sapere dove trovarlo Tutti i dispositivi della nostra rete domotica Devono sapere tutti qual è il suo indirizzo IP Sempre Quindi l'unica cosa che si può fare È metterlo statico L'indirizzo IP Quindi anche in questo caso Vi lascio le clip che avevo già registrato Su come impostare l'indirizzo IP statico Allora abbiamo bisogno di impostargli l'indirizzo IP fisso Come vi ho detto prima Ok allora qui seguitemi Perché la questione si fa un attimo complicata Ci sono dei comandi un po' lunghi da inserire Allora il primo Sarà IP Meno 4 Addr Show Ok ve li metterò da far copia e colla Promesso Ve li metto Ve li metto Quindi dev Qui va At 0 Se siete attaccati col cavo Ethernet Oppure VLAN 0 Se come me siete connessi via wifi Pipe Grep Inet In questa maniera Vediamo se funziona Ok l'output è esattamente quello che si pensava Questa roba qui in pratica contiene l'indirizzo IP di Raspberry E questo slash 24 che è il network size Quasi sicuramente 24 anche per voi Altro dato che ci serve a raccogliere invece è questo IP route Così Pipe 3 Chiusa graffa Apostrofo Non so se lo sito è giusto Proviamo Ok ok E questo qua è tutto questo semplicemente per sapere l'indirizzo IP del mio router L'indirizzo IP del router L'ultimo comando è un semplicissimo cut E andiamo a visualizzare il contenuto del file Etch Slash resolve Senza rai finale Attenzione E punto Conf Ok questo file qua E quest'ultima riga dell'output Contiene name server E un indirizzo che è quello da cui voi state pescando i DNS I DNS sono semplicemente quelle Quegli elenchi telefonici tipo So che non sono degli elenchi telefonici È solo una figure of speech Per spiegarlo a chi non sa cosa sia no Semplicemente il DNS Dal nome ad esempio facebook.com Associa un IP Così tu ogni volta che devi andare su facebook Puoi scrivere facebook.com E non devi ricordarti a memoria l'indirizzo IP di facebook Siccome sono dei grossissimi elenchi Non è che puoi averli salvati sul computer Sono online Generalmente i DNS vengono presi automaticamente dal router Si occupa lui di andarli a prendere altrove E il mio li va a prendere da telecomitalia.it Eccolo qua Ma potete anche mettere un DNS Che magari va meglio Io su tutti i miei dispositivi Ho come indirizzo IP del DNS 8.8.8.8 E il DNS alternativo 8.8.4.4 Che sono i DNS di google Ma siccome tanto Strasberry non gli interesserà Andare in internet a navigare Lui deve solo lavorare con i paraocchi Da home automation server Tutto questo discorso per dire che noi useremo Semplicemente questo IP qua Che è lo stesso che abbiamo visto prima nel router Quindi mi vado ad aprire un attimo Un blocco note al volo E mi vado a copiare questo Con anche lo slash 24 E questo E questo qua che è quello del router Perfetto Ora andiamo a configurare il Raspberry Perché utilizzi sempre lo stesso indirizzo IP Allora ci servirà a fare sudo Per essere amministratore Nano Per modificare il file E andare a modificare il file Edge DHCPCD.conf Questo file qua Ok c'è un sacco di roba qui in questo file C'è già un sacco di roba scritta E quello che noi abbiamo andato a fare Sarà spostarci alla fine del file Che è tutto commentato E aggiungere delle dighe qua Vado a scrivere Interface At zero Cioè ethernet Tatic IP Underscore Address Uguale E qua metto l'indirizzo IP Che voglio che il Raspberry Prenda Che non è questo qua Vado a copiarlo E incollarlo solo per comodità Ma non lo metterò sul numero 8 Perché il numero 8 Come ho detto Basta che ci siano 8 dispositivi connessi Ed è già preso Ed è facile che siano 8 dispositivi connessi In casa mia Che siamo pieni di roba 100 Penso che a casa mia sia già preso Lo metterò su un numero che mi ricordo Il 77 No D'ora in poi Raspberry avrà sempre l'IP 192.168.1.77 Ok ma non basta questo Vanno aggiunte altre due righe Sempre Static Routers Uguale E mettere l'IP del router Che abbiamo trovato prima Eccolo qua E Altra riga Quella per i DNS Quindi Static Domain Name Servers Potevano scrivere il DNS Invece di farmi scrivere una stringa lunghissima Uguale E gli lascerò l'IP del router Non gli metto quelli di Google Perché tanto Boh E vado a capo di un paio di righe E copio in collo Tutta questa qua E qui però Invece di At 0 Gli vado a mettere VLAN Così farà la stessa cosa Si prenderà sempre questo indirizzo IP Sia che si connetta col cavo Ethernet Sia che si connetta col Wi-Fi Perché magari una volta che il powerline non funziona Il cavo Ethernet si è rotto Qualsessi cosa Lui col Wi-Fi E avrà comunque l'indirizzo IP Quindi la stanza domotica comunque funzionerà Perché lui sarà sempre lì E tutti potranno parlare con lui Il router ovviamente è sempre nella stessa posizione Sia che sia connesso via Wi-Fi Sia che sia connesso via Ethernet E i DNS Allo stesso modo Ctrl X Esco Salva Yes Blah 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 Direi di provare a fare un reboot Per vedere se si becca l'indirizzo IP giusto Devo metterci anche un sudo Questa volta vado a mettere l'indirizzo IP Che so che dovrebbe avere 1.77 Dovrei trovarlo qua se tutto è andato a buon fine Ok Sì scusate si è aperto sull'altro schermo Comunque vedete mi sta rispondendo Perfetto ha funzionato Ok torniamo al presente Adesso andiamo a installare il vero e proprio Switchando Il nostro ambiente domotico Nel frattempo saranno arrivati qui anche quelli che Avevano già seguito i tutorial passati Quindi adesso per tutti Andiamo a installare Switchando E adesso a differenza del passato Di installazione si fa con un solo comando Un solo copia e colla per fare tutto quanto Per ovviamente chiedere un po' di configurazione Adesso vedremo Però non dobbiamo installare programmi a parte Cose a mano Farà tutto da solo Quindi vado a incollare il mio comando Vedete che è lunghissimo Ve lo lascerò ovviamente da file copia e colla anche a voi Ve lo lascio in descrizione in un pastebin Vget va a prendersi il file installswitchando.sh Che è uno script Va a scaricarsi questo script Vedete che nel nome non compare mai la versione Finalmente Così il nome resterà sempre uguale da una versione all'altra Voi potete eseguire lo stesso comando per installare sempre Gli dà il permesso di essere eseguito E dopo lo va a eseguire questo script Questo script andrà a scaricarsi tutta la roba che gli serve Andrà a fare un sacco di cose Unica cosa che devo dire è che Se avevate già installato la vecchia versione di Switchando Se avete già installato in particolare Mosquito Che è il nostro broker MQQT Praticamente è il programma che gestisce il protocollo MQQT Che è il protocollo che useranno i nostri dispositivi per parlarsi All'interno della rete Per dire Hey sono un interruttore sono acceso Hey tu lampadadio accenditi Oppure Hey tu striscia RGB sopra il mobile del soggiorno diventa più rossa E allora quello che si chiama striscia RGB eccetera Se avete già installato Mosquito Qui dovete andare a mettere un parametro Meno meno no Mosquito Questo dirà allo script di non installare Mosquito Perché Mosquito è già installato E quindi vi chiederà semplicemente le credenziali del Mosquito Che è già installato sul vostro Raspberry Ma visto che io lo sto installando su un Raspbian E va pulito pulito e non c'è nulla Non devo dirgli di non installare Mosquito Perché Mosquito appunto ci serve Quindi semplicemente copia e colla del comando che trovate in descrizione Invio Non va eseguito da amministratore Vedete che sta installando cose Ci metterà parecchio perché deve installarsi parecchia roba Lasciamolo lavorare Ok mi chiede una conferma per installare dei pacchetti Deve installarne parecchi Questo Ares, Libdev Eccolo qua Mosquito che lo sta installando Basta che gli dico Y E premo invio E lui si mette a installare roba Ok ed eccoci qua alla vera e propria configurazione Per accedere a Switchando per la prima volta avrai bisogno di un account con i privilegi di amministratore Un account admin sta per essere creato e ti sarà chiesta una password Praticamente visto che anche poi in futuro in un prossimo video andremo a rendere accessibile la domotica anche dall'esterno di casa Ci sono gli account Ci sono gli account su Switchando È comodo, ci sono gli account Addirittura potete assegnare permessi diversi Ai vari account Ad esempio la mamma può controllare solo le luci della cucina del soggiorno e di camera sua Il fratello può controllare solo le luci di camera sua E così via Potete fare diversi account che possono controllare solo specifici dispositivi Questo qui è l'utente admin Cioè l'utente che può controllare tutti i dispositivi Può aggiungerne eccetera eccetera Questo utente si chiamerà admin per forza ma la password possiamo scegliere noi Vi invito a sceglierla abbastanza complicata perché non è bellissimo il fatto che un estraneo possa controllare le luci di camera vostra alle 4 di notte dall'esterno di casa vostra Quindi vado a mettere una password complicatissima ad esempio overvolt Non preoccupatevi che userò questa password solo per questo tutorial Gli confermo la password, lui continua a fare cose Switch and Automation Successfully installed, fantastico L'ha installato con successo Ed è in esecuzione sulla porta 8080 Ok quindi adesso semplicemente digitando sudo service switch and status Perché adesso è un servizio di sistema switch and Quindi è comodissimo metterlo in esecuzione automatica È comodissimo vedere se sta funzionando o no Sudo service switch and status Bam, vedete Se vedete roba verde vuol dire che sta funzionando Il pallino verde e active running vuol dire che sta funzionando Adesso basta aprire un browser Andare su 192 6 Porta 8080 Guardate Plum Abbiamo già switchando in esecuzione Già configurato Lo username era admin La password commessa era overvolt se non sbaglio Opla guarda salva password Siamo già su switchando Siamo già Qui ovviamente non c'è ancora mostrato niente Perché non abbiamo creato nessuna stanza Non abbiamo aggiunto nessun oggetto smart Tipo interruttori, cose Quindi l'interfaccia adesso è completamente vuota Però abbiamo già fatto tutto In un attimo veramente Ok ho installato tutto switchando sul Raspberry Avete visto quanto è stato più veloce Delle prime volte in cui dovevamo andare a installare Un pezzo dopo l'altro GPIO, quell'altra roba Quell'altra roba qui è veramente Tutto in un colpo solo Come aggiungere il sonoff Ovviamente lo vedremo dopo Che gli avremo caricato il firmware definitivo E saranno tutti configurati Ma intanto vediamo molto velocemente Come aggiungere una stanza Semplicemente venite qua sull'URL Qualsiasi sia l'IP del vostro Raspberry E invece della pagina index.html Andate sulla pagina config-index.html Quindi dovete solo aggiungere un config- Ed eccolo qua Ci troviamo nelle impostazioni Con la nuova versione di switchando Che presto uscirà Anche le impostazioni avranno una grafica bellina Saranno accessibili diretamente dalla schermata home Con un tasto, con qualcosa Vabbè, comunque per ora sono così Molto testuali E quello che noi adesso vogliamo andare a raggiungere È una stanza Quindi add a new room Diamogli un nome Ad esempio salotto E i friendly names Cioè altri possibili nomi Con cui questa roba posso chiamarla Nei comandi vocali Ad esempio Se io dico Ok Google accendi la luce del salotto Oppure accendi la luce del soggiorno Oppure accendi la luce della sala E qua insomma vi sbizzarrite Trovate tutti i possibili nickname Con i quali volete chiamare la stanza Vado a premere add room Semplicemente Lui mi fa more direct E se adesso torno alla home Eccolo qui Vedo la stanza salotto Che per ora non ha nessun dispositivo Ho già un interruttore Per accendere e spegnere tutta la stanza Ovviamente adesso se lo clicco Resta spenta Perché non c'è nessun dispositivo Della stanza Ma questo qui è un interruttore generale Per accendere tutto il salotto Qualsiasi dispositivo esista Non ha troppo senso Una roba del genere Ha più senso per spegnere tutto il salotto Non so state uscendo di casa Bam Spegnete le stanze intere E ti spegne sia il lampadario Sia la bajur Sia la televisione Sia Ti spegne tutta la stanza Insomma Vabbè Questo qui è insomma La configurazione base Di come aggiungere le stanze Proseguiamo Dobbiamo però a sto punto Andare anche a riprogrammare I nostri sonoff Perché gli cambieremo firmware Questi qui hanno un firmware Sfigato all'inizio Cioè arrivano con un firmware Che permette già di controllarli Da un'applicazione Il problema è che Tutto il traffico Passa per un Amazon Web Server Insomma un server esterno Che è intercettabile Non è bello Poi se qualcuno vi ruba la password Il token Può far cose Può accendervi la luce in casa Può farvi anche delle cose brutte Quindi noi adesso andiamo a mettere Un bel firmware Che ci permette di controllarli In rete locale Dalle Raspberry Sarà il Raspberry A controllare i sonoff Quindi non saranno accessibili Dall'esterno E l'unico accessibile Dall'esterno Sarà il nostro switchando Che dopo controlla Tutti i dispositivi Della casa In maniera intelligente E come gli diciamo noi Per installare questo firmware Che si chiama Tasmota Sui sonoff Vi lascio alle clip vecchie Perché essenzialmente Non è cambiato nulla Ovviamente se Avete già fatto Se avete il sonoff Già col firmware Tasmota Saltate a quello Che c'è scritto qua Scusate se in questo video Vi faccio saltare Un po' di parti Però avevamo bisogno Di dare una forma decente A tutta la questione demotica Dai Almeno così È un po' più ordinato Quindi andiamo a cercarlo Su Google Poi metteremo comunque Il link in descrizione Questo qui È il firmware Che andremo a installare Sul sonoff È uno dei firmware più usati È open source Come vedi È molto flessibile Supporta un sacco di cose Pensa che potresti collegare Un sensore di temperatura Al sonoff E averlo listato Tramite MQTT Sul server Sapere la temperatura Che figata Esatto Poi possiamo saldare Un interruttore Un deviatore Un pulsante Qualsiasi cosa Sul sonoff Anzi no Un deviatore Due deviatori Un pulsante Qualsiasi cosa Sul sonoff Per accenderlo E spegnerlo Anche tramite Interruttore fisico E non solo tramite UI Ok E ho visto che È superato da tantissimi Sonoff Perché non solo Sì tutti quanti Tutti quanti Quello dual Per la seranda È ottimo Il due che useremo Per le persiane elettriche Appunto E addirittura Anche la luce Forse Il proprio lampadario Della sonoff Sì esatto Però Ah il slufer Eccolo qua Questo qui deve essere Il lampadario Se non sbaglio Poi c'è il sonoff touch Che invece È praticamente È un interruttore a muro Esatto Un interruttore a muro Touchscreen Per l'installazione Basta che ci spostiamo Nella sezione wiki Upload E qui Abbiamo tutti i metodi Di upload Possibili Quello che noi Andremo ad usare È Quello Sonoff factory OTA meccanism Che è il più facile Perché noi Praticamente Funziona in questa maniera Noi Lanceremo Al sonoff E gli diremo Ehi aggiornati Dai tuoi server I server della sonoff Proprio quelli nativi Richiedi il firmware nuovo Al sonoff Alla ITAD E lui dice Ok vado a chiedere Il firmware nuovo Noi intercetteremo La richiesta Gli daremo Un firmware Fa Azullo Lui si va a prendere Il nostro firmware Farloco Se lo installa E da quel momento Avrà installato Ok si divide in due parti Perché da sta prima Gli mandiamo un firmware Che è temporaneo Che ci permetterà Di flasharne un altro Perché grazie a quel firmware Temporaneo Possiamo anche cambiare Bootloader Che è quello che faremo Perché andremo a mettere Sul sonoff E bootloader Di arduino Ah figo Useremo per questo metodo Di installare il firmware Sui sonoff Un sonoff Ancora vergine Cioè un sonoff Che c'è ancora di firmware Su il firmware originale Ok quindi Ho rimesso Il sonoff Nella sua scatoletta di plastica Giusto per una questione Di sicurezza Poi nel murro Lo lascerò Senza la sua scatoletta di plastica Però adesso Che devo andare Ad attaccarlo Alla corrente 220 E a metterci le mani Insomma Era meglio Avere la scatoletta di plastica Quindi gliel'ho rimessa E gli ho attaccato Un cavo Semplicemente Le due polarità Dal lato dove c'è scritto Input Perché sull'etichetta Qua sopra c'è un lato Cosito input E un lato Cosito output E il lato Cosito input Gli ho attaccato Questo filo Che è semplicemente Una presa Una presa da muro E attualmente Gli darò corrente così Se volete Potete direttamente Attaccarlo Alla corrente del muro Nella sua posizione definitiva E io ho attaccato così Perché devo farvi il tutorial qua E non nella presa della corrente Ma devo stare qua Sullo scrittorio Nel frattempo Sul computer Abbiamo scaricato Il branch Github Del firmware Del sonoff E appunto Con python 3.5 Perché serve la versione 3.5 Con la versione 3.6 Ci sono alcune librerie Buggate Che non funzionano Quindi Usate la 3.5 Sì C'è una sola libreria Che non è supportata Da 3.6 Le librerie che dobbiamo installare Si trovano in questo file qua Requirements Andiamo subito a installarle Quindi Direi di installare I requirements Che si installano Python 3.5 Modulo pip Metto .5 Perché se avete più versioni di Python 3 installate Basta che mettete .5 Per Usare la versione Python 3.5 Modulo pip Install Trattino 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 user Trattino r Requirements Punto Txt E le librerie ci sono adesso Quindi andiamo a installare I sonoff A flashare i sonoff Esattamente Così Facciamo partire il software Avviamo lo script Sonota.py Allora mi chiede Innanzitutto L'indirizzo IP Vede due indirizzi IP Questa cosa mi sembra Piuttosto strana In realtà Suppongo che sia quello Quello lungo 192.68.43.135 Comunque vado a selezionare La rete numero 1 Questo qui insomma Devo inserire l'SSD Della rete Wi-Fi Perché lui deve saperlo Comunicare al sonoff SSD è Overvolt E la password Della rete Wi-Fi Perché anche questa qua Lui deve comunicarla A sonoff In modo che il sonoff Si possa connettere A questa rete Wi-Fi Da cui riceverà Tutti gli aggiornamenti E cose varie E la password Ho messo sonoff Tutorial Vado a premere invio Mi dice Adesso tieni premuto Per 7 secondi Il pulsante Sul sonoff In modo da farlo entrare In modalità Configurazione Il sonoff adesso Vedrete Mi creerà una rete Wi-Fi Sua A cui io mi connetterò Per comunicargli A quale rete Wi-Fi Deve connettersi Che sarà appunto Quella overvolt In realtà Noi abbiamo già configurato tutto Quindi il tastino Che c'è qua sopra Tastino nero E l'unico tasto che c'è Vedete Per quello ho messo La scuola di plastica Perché così posso Stoccarlo Insomma Senza rischiare la vita Ogni secondo E vado a tenerlo premuto Per 5-7 secondi E deve cominciare A lampeggiare velocemente La luce Che adesso Sta lampeggiando lentamente Opla Si è messo a lampeggiare In costante Fa pin 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 A questa velocità E il sonoff adesso È in modalità configurazione Vado quindi Sulle reti Wi-Fi A connettermi A Eccolo qui Itead Vedete che è comparsa Questa nuova rete Wi-Fi Vado a connettermi La password è 12345678 E in teoria Ok ci mette un pochettino A connettersi Perché Windows Fa un po' schifo Perché Windows ovviamente Dice Spazio che mi connetto E serve Microsoft Vedo se c'è connessione Internet Devo pingare E tra l'altro Mi ha detto Non è disponibile Non è possibile Connettersi a questa rete Perché Perché il sonoff Nel frattempo Era spento la rete Il sonoff adesso Si è spostato A connettersi Alla mia rete Overvolt Non ha più Cioè non ha più La sua rete Attualmente Lo script Sta scaricando Sta scaricando Sta downloadando Vedete Download Il nuovo firmware Sul sonoff Quando il download Sarà completo Installerà il nuovo firmware Quando il nuovo firmware Si è Anche quello Installato Tutto pronto Il sonoff Creerà una nuova rete Che si chiama Stage finale Si chiamerà Final stage E quindi servirà Per appunto Completare Il passo finale E serve appunto Per completare L'installazione Del firmware definitivo Sul sonoff Ok Ho la vocana Non aspetta Perché si è scaricata La batteria Però avete sentito Quel click on Che era il relè Del sonoff Che impazziva Quindi il sonoff Attualmente Si è Riavviato Ha fatto le cose Dovremmo trovare Una rete wifi Che si chiama Final stage Ah no Ok vuol dire Che non ha ancora Finito il sonoff Però sta funzionando Questo mi piace Ora il sonoff È di nuovo spento La luce è completamente spenta Si sta arrivando Un po' di volte Probabilmente Perché deve installare Un po' Eccolo qua Rete wifi Final stage Aperta Vado a connettermi A questa rete wifi Che è una rete wifi Che il sonoff Ha creato Come si chiama Passo finale Semplicemente Perché adesso Siamo su un firmware Temporaneo Ok ragazzi Si era bugato Non so perché Ho dovuto riavviare Lo script python Cioè il sonoff Era tutto funzionante Ma si era bugato Lo script python E quindi L'ho riavviato Con il parametro Meno meno No prove Che vuol dire Attenzione Stiamo cominciando Direttamente Dello stage finale Vedete Me l'ha suggerito Lui in realtà Mi ha detto Guarda che Se cominci direttamente Dello stage finale Usa il no prove E adesso Sta buttando L'immagine di arduino Sul sonoff Vedete Arduino.bin Ah non sono più Connesso alla rete Non sono più Connesso alla rete Perché la rete Non esiste più Si 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 è connesso Si è connesso Ah aspetta Configura wifi Ok ci siamo Ci siamo Aspetta Su che indirizzi IP sono Niente Ok Fermi tutti ragazzi Si è aperto Si è aperto da solo Dopo un po' di pensare Si è aperto su 192 168.4.1 Access point 2 Rete di backup Nel caso mai Non trovi la prima Connetta Overvolt Con password Tutorial Ah no Era sonoff Tutorial Ok Ostrame Lo lasciamo così Facciamo salva Prima che scada il countdown Facciamo salva Adesso mi dice Configurazione salvata E sonoff Si sta cercando Di connessere Alla rete wifi Che mi hai dato Mi dice Attenzione Che mi starò riavviando Ok Sonoff Si è riavviato Non sono più connesso Alla rete wifi Ovviamente E quindi adesso Posso riattaccare Il cavo ethernet Posso riconnettermi La rete wifi di casa Posso mettere giù La telefonata telegram Con Marco Perché possiamo tornare Su team speak E ci vediamo tra un attimo Quando sono tornato A tutto a posto Insomma Ok Ok Ve lo faccio sentire Ve lo faccio sentire anche a voi ragazzi Ve lo metto vicino al microfono Se premo il tastino Sul sonoff Purtroppo la canone scarica Non potete vedermi Comunque se vado a premere Il tastino Del sonoff Sentite il clac Del relè Il relè scatta E la luce si accende Se il lampadario Se il lampadario Dove essere acceso E la luce sul sonoff Si spegne Se il lampadario Dove essere spento Attenzione Adesso lo premo Sentite È molto silenzioso Il sonoff Però si sente Quindi ci spostiamo Un attimo Sul pannello di controllo Del modem Se no usate Un qualsiasi applicazione Anche Disploit Sul telefono Qualsiasi applicazione Che vi dica Chi è con esso alla rete Disploit Semplicemente Sì Semplicemente Per vedere Che IP ha Il sonoff Ok Quindi decidiamo Digitiamo l'IP Del sonoff Un pozzo tempo Perché è la prima volta Che entriamo Sì E soprattutto Il sonoff è lentino Perché c'ha Cioè IP Non è un Raspberry Che ha il suo server Ok Uh Che bello E possiamo controllarlo Da qui E possiamo fare Di film Un upgrade Si può Cridare da remoto Adesso vi spiego tutto Quindi questa qui È l'interfaccia Della configurazione Può capitare Che vada un po' lento All'inizio Appena connesso E soprattutto Con alcuni router Il sonoff È un po' più lento Che con altri Però comunque Funziona Come potete vedere Adesso ci spostiamo Nella sezione Della configurazione Dove appunto Devo configurare Possiamo scegliere Che modello abbiamo Questi sono tutti I tipi di sonoff Noi diciamo Sonoff basic Perché è quello Che abbiamo noi Ok Perché deve sapere Come controllare Il relay Adesso guarda qui Che figata Questi sono tutti I pin GPIO Quei liberi Questi sono i due seriali Che figata Questi sono i due pin seriali liberi Questo è un pin che non mi ricordo Dove sta Io ad esempio Qui ho messo una switch Che serve un interruttore E si può configurare E si può configurare Con l'interruttore a muro Esatto E io ho fatto così Anzi ci ho messo due deviatori Però non cambia niente Semplicemente posso controllarlo Sia da interfaccia Che da Con L'app Bellissimo Adesso andiamo a configurare L'MQTT invece Che è il protocollo Che a noi interessa Per controllarlo Da switch handle Ok Qui ci vuole l'IP Del broker MQTT Che è quello Del nostro Raspberry Che noi abbiamo impostato Su statico Come 77 O comunque l'IP Che voi avete messo Come IP statico Del Raspberry Che questo non tocchiamo niente Perché sarebbe l'ID Del client Adesso no E lasciamo che lo sceglie da solo Questo è l'utente Per il login Su MQTT Che era Ok fermi tutti Qua è il Marco del futuro Che vi parla Quando avevamo registrato Questa clip Funzionava in maniera Leggermente diversa Nel senso che Ce l'avevamo dovuti Impostare a mano Un nome utente E una password Di MQTT Attualmente invece Con questo nuovo procedimento Super veloce Che abbiamo fatto Il nome utente È semplicemente Switchando Tutto minuscolo E la password È uguale Alla password Che abbiamo usato Per Switchando Vi ricordate che Vi ho scritto a schermo Questa password Ci servirà anche Per MQTT In effetti È la stessa Di Switchando Quindi Username Switchando Tutto minuscolo E password La stessa Con cui vi loggate Con l'account admin Su Switchando La password È overvolta Tutto minuscolo Ok Ok il topic Questo è importante Lo chiamiamo Sound off Trattino Magari Camera Questo qui È il nome Del dispositivo Che si connette Può essere Sound off Del lampadario Del soggiorno E può essere Save E adesso si riavvia Ok concludiamo Velocemente Quindi con L'aggiungere Il sound off A cui abbiamo appena Messo il firmware Trasmota Aggiungerlo Alla rete Di Switchando Sul nostro Raspberry In modo da poterlo Controllare Da Switchando Appunto Per forza di cose Quindi torniamo Sulla nostra pagina Dell'interfaccia web Perché nella stanza Di Marco Non c'è ancora nulla E quindi proviamo Ad aggiungere Il sound off Che abbiamo appena Configurato Il sound off Ricordiamo Che Switchando Funziona Grazie ad un plug-in Che è preinstallato Con la corrente versione Ed è comunque Un plug-in esterno Si può disinstallare Rimuovendo questo DLL Perciò Essendo un plug-in Non è disponibile Al momento Nel config index Di questa versione qui Perché con la prossima Interfaccia grafica Ci sarà E sarà anche Tutto material design Questa sezione qua Perciò Dobbiamo accedere Alla configurazione Del suo plug-in In questo modo Nell'url Aggiungiamo Slash plug-ins Slash il nome Del plug-in Che sappiamo essere Sound off Tasmota Slash la pagina Che andiamo a cercare Che in questo caso È config.html E ci carica La pagina Di configurazione Del plug-in Sound off Tasmota Dove possiamo Aggiungere Il sound off Alla rete Alla rete Di home automation Questa è la pagina Di configurazione Dove possiamo Aggiungere Il nome del sound off I friendly names Che sarebbero Altri modi Per con cui chiamarlo La descrizione Che è quella Che appare sotto Al nome Nell'interfaccia grafica Il topic MQTT Che è quello Che abbiamo aggiunto Nel firmware Tasmota Se vi ricordate E questo è il canale In caso il sound off Sia un sound off A più canali Ad esempio Esistono i sound off Con due relay O anche quelli con quattro Noi ne abbiamo uno Con un canale E quindi lasciamo uno Quindi Come nome del sound off Mettiamo Sound off camera Come il topic Che abbiamo messo Magari qua mettiamo Uno spazio Giusto perché sia un po' più carino Come descrizione Mettiamo Sound off Del lampadario Della camera Questo qui Se vi ricordate Il topic Che adesso non ricordo Quale sia Sulla console Possiamo vedere Questi sono tutti i log Del sound off Ad esempio Vedete Ogni 5 minuti Manda su questo topic Questo qui è il topic E questo qui è il payload Del messaggio Che sarebbe Il messaggio praticamente Dice che è spento E se io andassi a premere Il pulsante Qua in console Dovrebbe loggarmi Il fatto che l'ho acceso Adesso provo Attenzione Ok Eccolo qua Che dice on Sono arrivati Stat Sound off camera Result Mentre Sul Intanto è arrivata Di nuovo la telemetria Ogni 5 minuti Su stat Sound off camera Sound off camera Ricordiamo essere il topic Che abbiamo scelto noi Power Arriva semplicemente on off Ovvero viene inviato Ogni volta che cambia stato Da qui Dal pannello di configurazione Dovremmo trovare anche Il topic Che avevamo impostato La volta scorsa Dalle impostazioni In teoria A parte che qui Lo mettiamo a vedere Ma ce l'abbiamo anche Qui In realtà il topic MQTT È tutto questo In questo messaggio Però a noi ci interessa Questo qui In questo caso Possiamo aggiungerlo qui E quindi il sound off Non ci sarà bisogno Che abbia un indirizzo IP Statico anche lui Il sound off potrà prendersi Questi indirizzi IP Perché tanto lui Quando va online Si connetterà Alla rete MQTT Dirà Hey sono il sound off camera Qualsiasi sia il sound Indirizzo IP Lui dirà Sono il sound off camera E quindi Il raspberry Che fa da server Dirà Ah bene Tu sei sound off camera Quindi ti devo trattare Dal lampadario della camera Quindi è molto comodo Esattamente Quindi Andiamo ad aggiungere Il nostro sound off Ci rendirizzerà In 3 secondi Ok Back to home E come vedete E lo vediamo Comparire nella lista Dei dispositivi Esattamente Adesso proviamo ad accenderlo Adesso risulta spento È spento anche In real life Esatto Provo ad accenderlo Con il pulsantino E attenzione Ascoltate E si è acceso anche qui Perfetto Se vado a premere Esatto Si spegne Si spegne all'istante Proprio È istantaneo Che figata Sentite il delay Tra il mio click Del mouse E il click Del relato Del sound off Attenzione A che punto il mouse Sentite Avete sentito Non c'è Non c'è praticamente Direi Figata Veramente Istantaneo Questo perché L'MQTT È un protocollo Molto leggero E veloce Benissimo Fatto anche questo Vi dico che per questo video è tutto Lascerò dopo questo video Che sto registrando nuovo I video che in realtà sono passati Però li metterò successivi Nella playlist Che sono Come accedere alla domotica Da fuori casa Quindi Col cellulare Quando siete in 3G Fuori casa O comunque in giro Da qualsiasi altro Computer Che dovrà essere L'episodio 2 A sto punto Di questa nuova serie E l'episodio 3 Di questa nuova serie Sarà il Ok Google Accendi la luce Sì Ci è triggerato Insomma Per controllare Tutta la nostra domotica A comandi vocali Grazie a Google Now Vi spoilerò già Che il prossimo episodio Che uscirà Sarà Vedete che qui C'è un Raspberry P0W E quel Raspberry P0W Che è piuttosto economico Lo useremo per controllare Una striscia LED RGB E striscia RGB Vedremo tutto quanto Sarà l'episodio 4 A sto punto Sì Diventerà l'episodio 4 Vi ricordo bellissimo Pollicione in su Se il video vi è piaciuto Assolutamente Mettilo adesso Togli il video Da schermo intero E metti i pollicioni in su Se state scoprendo Questo canale Grazie a questo video Iscrivetevi Perché ci sono un sacco Di video interessanti Di Arduino Raspberry Domotica Droni Hacking Non più Purtroppo Dopo che mi hanno bannato Da YouTube Vita Natural Durante Mi hanno bannato per sempre Sono riuscito a far riaprire il canale Ma Hacking L'abbiamo trasferito adesso Sul blog di Overvolt Blog di cui trovate il link In descrizione Fate un salto anche sul blog Ma comunque Per questo lunghissimo video È tutto Ci vediamo mercoledì a luna Con il mercoledì di Overvolt E sabato a luna Con il video principale Della settimana Ciao a tutti Ciao a tutti